Nuovi orrori scoperti in Ucraina. Una fossa comune di soldati ucraini e di centinaia di civili è stata rinvenuta nella foresta attorno a Isium, città appena riconquistata dall'esercito di Kiev. Secondo Serhii Bolvinov, investigatore capo della polizia di Kharkiv, nella fossa comune sono stati rinvenuti 440 corpi. Il messaggio notturno del presidente ucraino volò Demir Zelensky. Vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha portato all'occupazione russa. Buccia, Mariupol, ora Isium. La Russia lascia tracce di morte ovunque e deve esserne responsabile. Il mondo deve costringere la Russia ad una vera responsabilità di questa guerra. L'investigatore capo della polizia di Kharkiv ha spiegato che tutti i corpi ritrovati saranno riesumati e sottoposti ad esami forense e di identificazione che si aggiungeranno al dossier sui crimini di guerra russi.